Nella città di Agropoli presto l'apertura del noto marchio McDonald's. La McDonald's Corporation è una catena di ristoranti di fast food di origine statunitense. Fino al 2018 è stata la maggiore catena di fast food al mondo per numero di punti vendita. La multinazionale di fast food più conosciuta al mondo aprirà dunque un nuovo ristorante nella zona del Palazzetto dello Sport. Una notizia di grande importanza per quanto concerne l'economia cittadina. È chiaro che quasi tutti gli indicatori statistici attribuiscono all'area del costa del Cilento una proiezione futura, una grande espansione per una serie di motivazioni perché è un'area che è rimasta pressoché intatta in molti punti, perché ha un'attrazione naturalistica importante, perché deve ancora crescere, la crescita non è ancora avvenuta e quindi ecco perché questi marchi importanti che non si muovono a caso hanno scelto la nostra location, quindi l'area che va da Capaccio, Pestum, Agropoli, che passa per Castellabate, che scende giù fino alla costa cilentana, è di per sé un'area di grande crescita. È chiaro che Agropoli in questo contesto è visto come un po' il centro di tutta questa crescita, l'anello di collegamento tra Capaccio e il resto della costa cilentana e quindi come centro è stato scelto come riferimento da tanti marchi. Ecco, l'approvazione di questo strumento urbanistico faciliterà, renderà più facile l'investimento da parte di queste strutture e questo significa una crescita finalmente organica, la crescita della parte pubblica, la crescita della parte privata, perché insieme pubblico e privato possono rendere certamente migliore la città da tutti i punti di vista. Uno solo delle componenti è insufficiente, serve una sinergia tra esse e il PUC che è il giusto anello di collegamento che mette in modo quelle sinergie necessarie per far fare il salto di qualità.